Mi chiamo Barbara Piero e sono candidata nel Movimento Potere al Popolo nel collegio uninominale che va da Scampia a Ponticelli. La scelta della mia candidatura ha a che fare con il lavoro di radicamento territoriale che svolgiamo come Chironme e Chino da oltre 15 anni nel territorio di Scampia. Un lavoro di prossimità che vuole dare voce agli ultimi e parlare di territori riqualificati, di periferie che non subiscono più la distanza dal centro, di un diritto all'abitare dignitoso per tutti e per tutti, di un lavoro più eco e possibile, di scienze di cambiamento che questo territorio e questo paese deve avere. Ed è per questo che vi chiediamo di osare, di fare una scelta di coraggio e di votare potere al popolo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!